Hanno agganciato lo sportello del Bancomat ad un furgone cassonato e lo hanno smurato, poi si sono dati alla fuga. E' quanto accaduto questa mattina intorno alle 4 alla filiale di 9 drate della BCC di Cantù, in via Cesare Cantù. I residenti della zona, svegliati dai rumori, sono stati primi a dare l'allarme. Immediato l'intervento dei carabinieri da Cantù e da Seregno, i malviventi sono stati intercettati mentre scappavano, ne è nato un inseguimento, terminato in un campo al confine collentate sul Seveso, dove però sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Il bottino è ancora da quantificare. Proseguono dunque le indagini dei militari per cercare di risalire ai responsabili del colpo. Vista la rapidità e la modalità d'azione, plausibilmente si tratta di un gruppo esperto. Il mezzo utilizzato, con ogni probabilità, era stato rubato in precedenza.